E cambiamo argomento perché è già in moto la macchina organizzativa delle elezioni comunali che si terranno domani, domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio in 31 comuni abruzzesi. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per il 28 e 29 maggio. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo, a chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio. Rete 8, a partire dalle ore 14 e 45 di lunedì 15 maggio, seguirà in diretta gli scrutini, fornendo in tempo reale i nomi dei sindaci eletti. In studio, da Teramo, il direttore Carmine Perantuono condurrà la lunga diretta elettorale realizzata in collaborazione con il quotidiano d'Abruzzo e il Centro. Collegamenti sono previsti dai comuni di Silvi, Atri, Alba Adriatica, Loreto Prutino, Cepagatti e Pianella. Gli aggiornamenti in tempo reale saranno anche consultabili sui siti web www.reteotto.it e www.ilcentro.it. In Abruzzo sono due i comuni con più di 15.000 abitanti, Teramo e Silvi, chiamati al voto. Se nessun candidato dovesse ottenere la maggioranza assoluta al primo turno, cioè il 50% più uno dei voti, si andrà al secondo turno di ballottaggio tra i due nomi più votati. I candidati sindaco a Teramo sono tre, sostenuti da 15 liste. Per il centrodestra corre l'avvocato Carlo Antonetti, sostenuto dalle liste Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Futuro In e Amo Te, in cui confluiscono anche i candidati di azione. PD e Movimento 5 Stelle sostengono il sindaco uscente Gian Guido D'Alberto insieme alle liste Insieme Possiamo, Innova Teramo, Teramo Vive, Bella Teramo e In Comune Per Te. In corsa anche Maria Cristina Marroni, coordinatrice provinciale di Italia Viva, sostenuta dalle liste Teramo sul Serio, Teramo protagonista di azione politica Teramo. A Silvi, i candidati a sindaco sono l'uscente Andrea Scordella, Giuseppe Gentile e Massimo Blasiotti. Andrea Scordella è sostenuto da una coalizione di centrodestra per un totale di 5 liste e 80 candidati consiglieri. Per il centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Giuseppe Gentile appoggiato da 4 liste e 50 candidati consiglieri. Massimo Blasiotti è ex Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco di una coalizione civica composta da due liste, ognuna con 16 candidati a supporto. I comuni dove si vota sono i seguenti. 5 in provincia di Chieti, Castelguidone, Frisa, Pizzoferrato, Torino di Sangro e Villa Santa Maria. 8 in provincia dell'Aquila, Barete, Bugnara, Castellafiume, Lucoli, Massadalbe, Oricola, San Benedetto dei Marsi e Scanno. 9 in provincia di Pescara, Bussi sul Tirino, Cepagatti, Loreto Prutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino e Nabruzzo Citeriore e Turri Valignani. E infine altri 9 comuni in provincia di Teramo. Alba Adriatica, Atri, Castilenti, Civitella del Tronto, Controguerra, Nereto, Notaresco, Teramo e Silvi.